Un Natale di eventi tesi a dare un'opportunità ad adulti e ragazzi di divertirsi, stare insieme, fare acquisti in un'atmosfera che solo questo periodo dell'anno porta con sé e allo stesso tempo a fare del bene, aiutando chi è in difficoltà. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Chieti che ha allestito un cartellone natalizio con l'ausilio dell'associazione ANIAC, presieduta da Tommaso Rutolo. Per tutto il periodo delle festività, mercatini su Corso Marrucino con botteghe aperte dalle 10 alle 21, la pista di pattinaggio in piazza Le Marconi e ancora artisti di strada, la pesca di beneficenza. Il 24 dicembre l'evento Clou L'Arpa Laser in piazza Martiri della Libertà, dal 2 gennaio la mostra degli artisti abruzzesi e il 6 gennaio gran finale con la 28esima edizione del Presepe Vivente a cura dell'associazione Teate Nostra. Niente capodanno in piazza a Chieti per non penalizzare i ristoranti e i locali, hanno spiegato l'assessore al commercio Manuel Pantalone e il vice sindaco Paolo De Cesare. Voglio ringraziare l'ANIAC, il cui presente direttore e presidente Tommaso Rutolo, che ha supportato le iniziative, il cartellone, le manifestazioni, le attività che devo dire quest'anno hanno una connotazione ben specifica perché sono volte ai più piccini, alle famiglie e soprattutto alla solidarietà per i più bisognosi perché ci saranno pesche di beneficenza, manifestazioni che hanno questa finalità. Un Natale che quindi sarà anche occasione per gli artigiani, i piccoli esercenti, di avere l'infa vitale. Certamente, noi siamo orgogliosi e onorati di aver prestato a nostra opera questo aiuto affinché la città di Chieti abbia un Natale degno di un capoluogo di provincia.